Orge Rafael Videla è stato un generale e politico argentino, dittatore e, de facto, 42esimo presidente dell'Argentina tra il 1976 e 1981, durante il regime militare noto come processo di riorganizzazione nazionale. Videla arrivò al potere con un colpo di stato ai danni di Isabelita Perón. Il suo governo fu contrassegnato dalle violazioni dei diritti umani e da contrasti frontalieri con il Cile che per poco non sfociarono in una guerra. Videla è stato condannato a due ergastoli e 50 anni di carcere per vari crimini contro l'umanità, tra i quali l'assassinio e la tortura di oltre 30.000 persone. Scontò la pena nel carcere federale di Marco Spaz durante gli ultimi anni della sua vita. Il regime militarista, anticomunista e autoritario di Videla è stato avvicinato al fascismo. La dittatura in Argentina, un'epoca di terrore e trasformazione. L'Argentina, una nazione con una storia ricca e complessa, ha vissuto un periodo buio durante la dittatura militare che ha governato il paese dal 24 marzo 1976 al 10 dicembre 1983. Questo periodo è conosciuto come il processo di riorganizzazione nazionale, un nome che nasconde la brutalità e la violazione dei diritti umani che hanno caratterizzato quegli anni. Il colpo di Stato del 1976, che depose il governo di Isabel Perón, segnò l'inizio di una giunta militare guidata dal generale Orge Raffaele Videla. La giunta si proponeva di porre fine ai disordini e di creare una società sicura, basata sulla morale cristiana, con profonde riforme economiche e dell'educazione. Tuttavia, la realizzazione di questi obiettivi ha richiesto la sospensione delle garanzie dello Stato di diritto e l'istituzione della pena di morte per i reati contro lo Stato, che in pratica significava la lotta contro chiunque fosse considerato un sovversivo. Il regime ha adottato la forma di uno Stato burocratico autoritario e si è caratterizzato per l'attuazione di un piano sistematico di terrorismo di Stato. Gli obiettivi dichiarati erano combattere la corruzione, la demagogia e la sovversione, e collocare l'Argentina nel mondo occidentale e cristiano. Si stabilì un nuovo modello economico-sociale, sulle linee guida del neoliberismo, imposto attraverso una generale violazione dei diritti umani.Le persone scomparse, o desaparecidos, sono diventate un simbolo tragico di questo periodo. Migliaia di oppositori veri e presunti sono stati segretamente fatti sparire, morti sotto tortura, fucilati, gettati in mezzo all'oceano, sepolti in fosse comuni, cremati o buttati in fondo al mare con un blocco di cemento ai piedi. Le famiglie vivevano nel terrore, spesso tacendo nella speranza che il silenzio avrebbe contribuito al rilascio dei loro cari.La tortura era utilizzata per estorcere confessioni e denunce illusorie, allargando la rete delle persone coinvolte. L'economia fallimentare, unita alla sconfitta nella guerra delle Folkland Malvinas, ha portato a un rimpasto di governo, con la sostituzione di Videla e infine la caduta del regime. Il potere fu esercitato tramite la violenza e la tortura, l'esilio forzato, l'appropriazione di minori, e provocò un numero stimato di circa 30.000 sparizioni. Il regime militare poteva contare sul sostegno o la tolleranza dei principali media privati e gruppi economici del paese, della Chiesa Cattolica e della maggior parte della comunità internazionale alla fine del 1983. Indebolito dalla sconfitta nella guerra delle Folkland e dalle pressioni internazionali, il regime fu costretto a cedere il potere a un governo liberamente scelto dai cittadini. La transizione verso la democrazia ha aperto la strada a un lungo e difficile processo di riconciliazione e giustizia, che continua ancora oggi. Questo testo offre solo una breve panoramica di un periodo complesso e doloroso nella storia argentina. La dittatura ha lasciato cicatrici profonde nella società che sono ancora visibili oggi, ma ha anche insegnato importanti lezioni sulla resistenza, la resilienza e il valore della libertà e della giustizia. La dittatura in Argentina, nota come il processo di riorganizzazione nazionale, ha avuto effetti profondi e duraturi sulla società e sulla nazione. Ecco alcuni degli impatti a lungo termine, violazione dei diritti umani e desaparecidos, durante la dittatura, migliaia di persone sono state segretamente fatte sparire, torturate e uccise. Questi individui, noti come desaparecidos, sono diventati un simbolo tragico di quel periodo. Le loro famiglie hanno vissuto nel terrore e spesso hanno tacciuto per paura o nella speranza che il silenzio potesse contribuire al rilascio dei loro cari. L'Argentina ha dovuto affrontare il trauma e il lutto causati da queste sparizioni forzate, e la memoria di quegli eventi continua a influenzare la società. Memoria e giustizia, il 24 marzo è stato istituito come giorno nazionale della memoria, per la verità e la giustizia in commemorazione delle vittime e del processo avviato in quella data. Questa commemorazione denuncia gli orrori della dittatura e ricorda le persone scomparse e torturate. Organizzazioni per i diritti umani, come le Madri di Plaza de Maio, hanno lottato per la verità e la giustizia, cercando di far emergere la verità sulle sparizioni e di ottenere giustizia per le vittime e trasformazione, politica ed economica. La dittatura ha portato a una sospensione delle garanzie dello Stato di diritto e alla sostituzione dei partiti politici, dei sindacati e dei giudici della Corte Suprema. Questo ha avuto un impatto duraturo sulla politica argentina. Le riforme economiche imposte durante la dittatura hanno avuto conseguenze a lungo termine sull'economia del paese. Tuttavia, l'economia fallimentare e la sconfitta nella guerra delle Folkland Malvinas hanno alla fine portato alla caduta del regime cambiamenti sociali e cultura della memoria. La dittatura ha lasciato cicatrici profonde nella società argentina. Le organizzazioni per i diritti umani, le testimonianze delle vittime e le commemorazioni annuali hanno contribuito a mantenere viva la memoria di quegli anni. La cultura della memoria, attraverso eventi, monumenti e narrazioni, ha cercato di preservare la consapevolezza di ciò che è accaduto e di evitare che tali atrocità si ripetano. In sintesi, la dittatura in Argentina ha avuto impatti significativi sulla politica, l'economia, la memoria collettiva e la lotta per i diritti umani. La sua eredità continua a influenzare la società argentina fino ai giorni nostri.